Concerti musicali, cinema all'aperto, mostre fotografiche, spettacoli di danza e cabaret. Sarà un'estate barlettana all'insegna della cultura, dell'arte e della riscoperta delle tradizioni popolari, quella presentata questa mattina dal neosindaco della città della disfida, Mino Cannito. Una programmazione nella quale si inseriscono gli eventi legati alle celebrazioni dei Santi Patroni, che culmineranno nei festeggiamenti del prossimo weekend. Abbiamo aperto gli spazi, siamo andati negli spazi aperti, siamo andati in periferia, siamo andati in tutti i quartieri e quindi credo che i cittadini potranno godere, anche perché come dicevo in conferenza i soldi sono i loro, potranno godere di questi spettacoli. Abbiamo chiesto aiuto alla Chiesa di Sant'Andrea, al Sagrato della Cattedrale, siamo andati anche nei mercati rionali, quindi abbiamo utilizzato lo spazio comunale pubblico del mercato rionale in via Leonardo da Vinci, questo per consentire a tutte le persone, come dicevo prima, di godere di questi spettacoli. La processione dei Santi Patroni avrà un itinerario leggermente diverso rispetto a quello degli scorsi anni. Abbiamo modificato l'itinerario della processione, abbiamo aumentato il numero delle serate dei fuochi pirotecnici, abbiamo ripristinato la cassa armonica che darà spettacoli soprattutto alle persone che rimangono di centro città. Non è stato possibile per quest'anno modificare la postazione delle bancarelle per motivi legati sempre a problemi di sicurezza, ma l'anno prossimo contiamo, sempre se la prefettura ce la consentirà, di riportare le bancarelle in città. La natura della festa rimane religiosa, quando parliamo di religiosa cristiana entriamo in un discorso educativo, per cui anche se si vede o non si vede, però la funzione di queste feste, se uno le vede bene o le coniuga nel giusto senso, hanno una grande valenza educativa a livello di popolo. Grazie. Grazie. Grazie.